Sono uno scienziato, un genio, una cometa, ma son di buon carattere, di compagnia, e ciò compensa tuttavia i bravi coglioni, come me, come te, come noi, come voi se non stanno buoni, s'arrabattono, sbattono e fanno casini, non è poi grave, frappagliuzza e trave, ma statisticamente i tre quarti dei matti sono capi di stato malati di mente, hanno zelo, denari, mostrine, alamari e per questo fanno il massimo danno, se il signor Tizio fosse solo un ragioniere, ragionerebbe in ogni caso col sedere, ma è quadro di partito e capo il gabinetto fa una cazzata e salta tutto, i bravi coglioni, come me, come te, come noi, come voi se non stanno buoni, s'arrabattono, sbattono e fanno casini, non è poi grave, frappagliuzza e trave, ma statisticamente i tre quarti dei matti sono capi di stato malati di mente, hanno zelo, denari, mostrine, alamari e per questo fanno il massimo danno, se il generale Caio non avesse i gradi, un paio di stronzate avrebbero rimedi, ma è capo di visione gioca con le bombe, se sbagli accade le catombe, i bravi coglioni, come me, come te, come noi, come voi se non stanno buoni, s'arrabattono, sbattono e fanno casini, non è poi grave, frappagliuzza e trave, ma statisticamente i tre quarti dei matti sono capi di stato malati a tempo, come i grandi amori eterni, sono gli amori dei pirati, hanno paradisi e inferni, solo un po' ravvicinati. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!